Regoliamo il boccato superiore per far sì che l'apporto di ossigeno flusso sia costante per far rimanere il mondo che intorno ai 170-170 gradi e lo lasciamo in cottura finché quando con un termine trattura ha il cuore della preparazione all'interno del nostro cabello di agnello ci sia una temperatura di 55 gradi Come programmato 50 minuti sono bastati Il profumo devo dire che è buono, non si può dire che non ci dà di negativo Il resumen è chiaramente secco, non lo mancheremo, non lo mancheremo Questo è il nostro carrette che tagliamo subito e vediamo la cottura com'è andata E allo scoccare delle ore 10 possiamo mangiare